ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare for asten a cosa serve for astena un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali è commercializzato in italia dall'azienda euro nazionale srl informazioni commerciali titolare euro nazionale srl concessionario euro nazionale srl categoria di appartenenza integratori di minerali forma farmaceutica polvere confezioni for asten 14 buste indicazioni for astena marchio registrato a un integratore alimentare a base di magnesio potassio e vitamina c con zinco carnitina cistina e coenzima q10 utile per colmare le carenze e gli aumentati fabbisogni di tali nutrienti modalità d'uso si consiglia l'assunzione di una busta al giorno versare il contenuto della busta in almeno 200 ml di acqua o altra bevanda non gassata ea temperatura ambiente oppure direttamente in una bottiglietta da 0,5 litri mescolare o agitare bene fino a completa solubilizzazione del prodotto e consumare descrizione e caratteristiche potassio ha un componente importante per le nostre cellule poi cacopi cacopi di acqua di acqua la fisiologica funzione muscolare e aiuta a mantenere valori normali di pressione sanguigna magnesio ha un minerale presente in grande quantità nel nostro organismo che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento all'equilibrio elettrolitico al normale metabolismo energetico alla funzionalità muscolare alla sintesi proteica e interviene nel processo di divisione cellulare vitamina c ha una vitamina idrosolubile che protegge le strutture cellulari dallo stress ossidativo e che coadiuva il metabolismo energetico e la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento contribuisce inoltre al mantenimento della regolare funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso effetto benefico che si ottiene assumendo almeno 200 mg di vitamina in aggiunta all'apporto giornaliero raccomandato carnitina ha un aminoacido che viene sintetizzato nel nostro organismo da fegato e reni a partire dagli aminoacidi lisina e metionina in presenza di vitamina c e ferro a funzione di carrier per gli acidi grassi che vengono trasportati all'interno delle cellule per i loro processi metabolici cistina all'amino acido con il più alto contenuto in solfo che nell'organismo funge da precursore del glutatione sostanza avente un ruolo biologico molto importante per le reazioni cellulari eco fattore di numerosi enzimi coenzima q10 ha una molecola appartenente alla famiglia degli ubiquinoni ed un cofattore essenziale nella catena mitocondriale di trasporto degli elettroni zinco ha un oligo elemento utile per il normale metabolismo acido base di carboidrati acidi grassi e macronutrienti contribuisce alla corretta sintesi del dna e delle proteine e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo avvertenze gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata di un sano stile di vita non superare la dose giornaliera consigliata tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni contiene un edulcorante conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ai raggi solari il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra allergeni senza glutine ingredienti sali di magnesio dell'acido citrico maltodestrina citrato di potassio magnesio bisglicinato vitamina c acido l scorbico l carnitina aroma arancia correttore di acidità acido citrico colorante beta carotene l cistina agenti anti agglomeranti esteri del saccarosio degli acidi grassi biossido di silicio zinco citrato coenzima q10 edulcorante sucralosio fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato